oh yeah oh yeah that's right oh yeah oggi parleremo della terra piatta signori lo sapevate che la piatta scoprirete anche questo oggi questo è molto alto ancora allora un mio caro ascoltatore il caro ascoltatore pensa che io sto cercando sto faccio questi video perché voglio sono arrogante sono arrogante voglio dire la mia e dire che tutti gli altri sono cattivi tutti gli altri sono cattivi io questi video caro gabriele sto facendo per un semplice motivo io non voglio convertire nessuno perché infatti quello che farò vedere adesso c'è questa teoria della terra piatta cioè io mi vergogno anche a perdere tempo di parlare sta roba però ne parleremo così scopriamo perché io questi video non li sto facendo per convertire qualcuno io questi video li sto facendo per me stesso perché questi video che sto facendo una specie di diario che sto facendo io diario fra qualche anno quando rivedrò questi video vedrò proprio l'orrore in che punto era arrivato l'uomo in che punto era arrivato l'uomo quindi vedendo questi video io sto registrando questo è un evento storico secondo me che stiamo vivendo cioè che la gente arriva per esempio lasciamo vedere scie chimiche e tutto quanto ma qui si arriva a parlare che la terra è piatta cazzo cazzo terra piatta vediamo di preciso questa storia qua e parlerò di molte altre cose tante altre cose parlo al Marcel del futuro guarda che roba guarda che cazzo ti racconto amico guarda che succedeva nel 2016 guardalo e non te lo scordare guarda che roba andiamo avanti condividiamo la schermata caro Marcel del futuro condivido la schermata e vediamo un po' comincia a preparare il sacchietto quello per vomitare andiamo avanti condividiamo la schermata ed eccoci qua la magia comincia cominci già ad avere dei movimenti del punch cominci piano piano adesso ti sarà tutto allora però io inizierei proprio da questa storia della terra piatta allora perché a quanto pare oggi 2016 c'è un guru che va alla grande si chiama Mario 40 ma non è solo insomma e in questo articolo su facebook lui parla della terra piatta terra piatta quindi per questa gente che insomma è anche seguita e la NASA sta modificando le immagini video che ci mette a disposizione e noi ci caschiamo la terra in realtà non è una sfera ma è piatta e ci sono 27 condivisioni 63 coglioni hanno piaciuto questo posto e io così proprio da ingenuo proprio che sono e mi ricordavo siccome c'ho la passione della fotografia mi ricordavo di aver fatto una foto non molto tempo fa che è questa qua allora questa foto qua l'ho fatta nel 2011 ma si può benissimo fare anche oggi basta che vai al mare vai al mare e fai una fotografia di una nave che sta lontano però non lo puoi fare col telefonino questa volta io avevo una lente particolare quindi io avevo siccome sono appassionato di fotografia avevo una lente che ingrandisce molto ok? però questa è una cosa che uno può vedere anche col binocolo bimbi bambini ma questo è un esperimento che potete fare anche con un binocolo e quindi io ho detto ma come me la spiegate questa cosa che ho visto cioè questa è una nave io ho fatto una foto a una nave che sta dietro all'orizzonte magia magia e perché capito qui c'è proprio grande qua stavano tipo preparando la tavola rotonda cioè si riunivano tutta questa gente qua e parlavano come è fatta la terra è tonda è piatta è cava è geovidica e addio mio insomma questi capito si riuniranno e faranno un hangout cioè parleranno tutti tipo via tipo skype no? hangout parlano tutti ognuno comodamente da casa propria e parleranno consumeranno energia elettrica e consumeranno tante cose per parlare dell'argomento terra piatta oggi 2016 la gente invece di parlare di di quello qua intorno della merda che avete tutti i giorni perde tempo con l'argomento della terra piatta ok quindi ho scritto ho scritto a questa gente ma scusate come me la spiegate questa foto qua e e io ho detto anche insomma vi do una mano potete anche dirmi ho scritto che l'ho l'ho fotoritoccata e oppure potete dirmi che sta affondando la nave ecco vi do una mano ditemi ditemi questo almeno tirate fuori qualche scuso così non fate figuracce invece no mi hanno detto che sono arrogante sei arrogante questo è una cosa questo è sarcasmo tu non hai modo di parlare questo e lì ho avuto una la realizzazione che sto avendo sempre più confermo ultimamente che la gente cioè io facevo come un coglione facevo tutti questi video su youtube pensando che la gente se gli spieghi le cose se gli fai vedere poi gli dici guarda cazzone prendi un binocolo vai al mare e guarda una nave che sta lontano vedrai che sparisce prima sotto e poi sopra ma quando vedi che uno ti attacca qua e ti dice tu sei sei arrogante sei questo è sarcasmo quindi mi stai prendendo in giro ma porca troia ma prenderti in giro sarcasmo ma ma ringrazio a dio che ho usato solo sarcasmo e non ti ho preso proprio a parolacce porca troia ringrazio a dio che ho perso tempo e ancora sto perdendo tempo a parlare di sta minchiata sono stato sarcasmo sono stato pure troppo buono cazzo a usare solo sarcasmo quindi lì ho realizzato che la gente non vuole cioè se tu gli dici guarda coglione prendi un binocolo guarda guarda tu stesso e ma sicuramente diranno eh ma che no questo tireranno sempre fuori la scusa per rifugiarsi in questo mondo nella loro fantasia perché è molto più semplice avere una fantasia piuttosto che affrontare la realtà perché per affrontare la realtà tu devi capire le cose tu devi sapere come funziona la scienza siccome non lo sanno come funziona la scienza questi geni loro si buttano nella fantasia che è molto più molto più facile ecco la terra è piatta dice la noi viviamo una specie di cosa così cioè noi stiamo qua facciamo un attimo cosa giusta capito cioè tipo siamo così in una specie di terra così che è piatta che si trova così in paradiso forse e qui c'è una specie di globo dove viene proiettato il sole i pianeti le cose e dicono che la terra è piatta perché nessuno l'ha mai vista che è tonda la terra nessuno l'ha mai vista ecco capito capito perché vanno alla grande queste cose qua perché la gente si si sofferma all'apparenza ai sensi la gente schiava dei sensi come ho spiegato nell'altro video un bicchiere con acqua e un cucchiaino fa vedere che è storto il cucchiaino quindi non ti puoi fidare dei sensi bimbo non ti puoi fidare dei sensi devi usare la testa devi studiare devi capire che c'è la rifrazione devi capire che la luce viaggia in modo diverso a seconda del medium cioè della sostanza che devi attraversare e quindi oh mio dio sto usando ancora sto ancora sforzando a usare la logica con questa gente inutilmente inutilmente ma ripeto questi sono video che faccio al al me di futuro così per farci due risate magari quando fra 70 anni 60 anni 50 anni quando rivedrò questi video mi metterò un po' così a ridere quindi per esempio un altro esperimento che potrebbero fare questi geni questa è la terra caro genio sai qualcuno che vive in Australia e tu stai in Europa quindi tu Europa sta nell'emisfero nord che a te ti piace o no l'Australia sta nell'emisfero sud sud che succede la terra la gente qua sta a testa in giù eh lo so che è una cosa incredibile però funziona così quindi che succede questa è la luna genio quindi la luna ha tipo questo puntino qua un grande gratero diciamo che sta qua che è più più grosso degli altri è scuro e si vede sempre anche a occhio nudo si vede quindi che succede uno che sta in Australia sta a testa in giù questo puntino lo vede in alto quindi la luna gli appare così con il puntino qua in alto perché sta a testa in giù lo so che è una cosa incredibile incredibile per te che ci siano gente che vivono a testa in giù incredibile però purtroppo è così mi dispiace invece chi guarda dall'emisfero nord vede il puntino giù e quindi questo è un test che tu puoi fare puoi chiamare un tuo amico che sta che sta in Australia e digli senti mi fai una foto alla luna e me la posti su facebook e tu posti la tua foto su facebook così tutte e due mettete la foto e vedrete che uno vede la luna così e l'altro lo vede così così bimbo hai capito bimbo hai capito bimbo raccio del mardo che fate coglione dio mio mamma mia che punto siamo arrivati questi sono comunque come stavo scrivendo un'altra parte noi stiamo vivendo The Dark Ages Dark Ages cioè il Medioevo proprio noi stiamo ritornando nel Medioevo proprio perché quando si arriva a questi livelli qua significa quanto cazzo è diventata proprio animale è stupida la gente e quindi è inutile cioè hanno vinto come cazzo fai a dialogare con uno che gli dici senti vai prendi un binocolo e guarda te stesso e invece che fa guarda come gli dici tu il messaggio cioè con il tono di voce guarda e qui questo è un ottimo argomento perché questa cosa lo stavo vedendo anche con il mio dell'ascoltatore Gabriele Gabriele che mi segue appassionatamente e anche lui stavo notando che invece di confutare cioè allora spieghiamo chi è Gabriele per il Medioe del futuro che ormai se lo sarà scordato Gabriele insomma non rimarrà molto traccio insomma non sarà una persona che mi ha segnato insomma Gabriele quindi sicuramente me lo sarò scordato quindi ricordo al Medioe del futuro chi era Gabriele Gabriele è una persona che mi attacca su YouTube ma la cosa forte è che fa come come questa persona qua che mi attacca non attacca il messaggio che dico io cioè il contenuto del messaggio ma attacca il messaggeo questo è un classico cioè quando la gente la gente ha un ego proprio enorme se la prende mi fa incazzare la persona e quindi non se la prendono con il messaggio non perdono tempo a discutere del messaggio cioè su quello che io parlo nei video che io come un coglione spiegavo le cose tecniche e poi ovviamente lui mi attacca ogni volta che io spiego qualcosa tu mi attacchi Gabriele tu mi attacchi ma non attacchi mai le idee attacchi sempre me la persona perché dici sempre che sono arrogante sono un cazzone sono capito dici queste cose qua perché non puoi non hai la capacità di discutere del contenuto di quello che parla non ce l'hai purtroppo amico con tutto il bene del mondo insomma che cazzo sto di bene del mondo con tutta la buona volontà insomma si vede insomma che non sei uno che sta cercando di capire le cose ma sei uno che stai proprio inutilmente vieni qua e pensi di di tipo vincere ma poverino poverino ma che cazzo sto facendo sto facendo così a gara a chi ce l'ha più lungo qua io mamma mia allora andiamo avanti e quindi questo è un classico quindi questa gente siccome non ha capacità proprio di ragionare perché non è preparata sul contenuto no su quello che dici attacca la persona non attacca il messaggio l'idea se la prende con me come sono fatto io come parlo io nei miei video ma questo è il mio canale amico Gabriele questo è il mio canale io parlo come cazzo mi pare amico io non sto vendendo libri come i tuoi geni qua che mi hai consigliato e poi parlerò anche di questi guru no mamma mia io non ti sto dicendo alla fine dei miei video non sono come gli altri cazzoni che ti dicono iscriviti al mio canale compra il mio libro unisciti al mio partito e salviamo il mondo ecco io non vendo queste cose caro amico non le vendo l'hai notato? l'hai notato? allora andiamo qua mi scrivi tu non ti fidi di nessuno e non va bene così giudicare senza approfondire non è una cosa saggia ricordalo ecco Gabriele che mi parla di saggezza insomma quello non è un cazzone ma uno che sa fare discorsi seri allora discorsi seri fare discorsi seri non significa un cazzo i scienziati che hanno creato la bomba atomica erano super intelligenti super intelligenti erano ma loro sapendo che stavano facendo una bomba atomica lavoravano alla grande perché tanti pensavano i soldi che cazzo gli ne frega loro e che come cazzo verrà usato questa bomba cioè neanche gli veniva il dubbio che forse se lavoro per una bomba la bomba non può servire per niente di costruttivo quindi forse mi dovrei fermare cercare un altro lavoro lavorare in un altro modo niente quindi non significa amico che uno che ti può sembrare accattivante e che il suo cervello è attivo e quindi parla può sembrare che sta dicendo qualcosa di bello ed intelligente intelligenza non è sintomo non è non vuol dire che uno è anche saggio capito? sono cose completamente diverse e se tu vedi questa gente io adesso ne parlo di questi geni qua ne parlerò faccio proprio pochi esempi tra l'altro ho visto ho visto nel canale di questo genio che mi ha mandato la cosa ecco guardati mi ha detto guardati come cazzo si chiama questo Bruno Carlo come cazzo si chiama Carlo Bruno Rocco Bruno si chiama questo genio qua allora stavo vedendo ho detto fammi vedere un altro video perché ho visto solo un video e ho capito che tipo era allora dai ho detto fammi andare a vedere un altro video allora metti al minuto 2.49 e senti che cazzo dice dice alla gente che è venuta lì a dargli soldi per vedere il seminario che sta facendo e così gli è scappato ma pensiamo al lavoro diceva ma tra l'altro dubito che qualcuno di voi lavori voi siete dei fancazzisti glielo ho detto proprio in faccia perché li vedono e li conosce gente che viene là che non cazzo da fare hanno soldi così da buttare e vengono a sentire le favole di questo che li salveranno quindi l'ha detto proprio da solo voi siete dei fancazzisti capito qual è la cultura Gabriele io io so che tu non te ne frega un cazzo di questo che dico però io ci provo lo stesso ci provo a essere buono ci provo anche se ormai ho capito insomma che tipo sei a dirti che la gente che che si concentra su teorie così dove non ti devi sforzare non devi sforzare la testa è come tipo una favola dove tu senti questo racconto magico che dice uno e quindi non si tratta di fare ricerca di aprire libri scienza tutta questa roba qua quello richiede sforzo quando la gente si concentra intorno a questi guru qua tu dovresti fare anche un piccolo ecco guarda te lo faccio notare io allora questo è il canale di quell'altro genio igienista mentale mi è venuto in mente lui quindi sono andato a vedere ho messo quello di lui qua nella cosa guarda ci fai caso subito un ottimo errori ortografici ci sono delle piccole cose che ti fanno notare quando una persona devi stare all'allarga ecco quest'altro qua sempre ritornando a Rocco guarda il link che ti vede che ti mette qua per vendere la roba sua guarda la roba che c'ha da vendere guarda guarda che roba guarda che roba guarda come uscire dalla matrix come uscire dalla matrix che altro ho messo qua ecco ho fatto un video qua dice ecco clicca qui per votare il mio video e questi sono piccoli segni che ti mostrano amico che ti mostrano che gente hai a che fare capito amico questa è tutta questi sono marchettari porca guarda che bella lenta ho usato qua questa è una lente a focale molto molto corta questo si chiama effetto sfocato che si può realizzare usando lenti proprio abbastanza costose e quindi fa vedere insomma come questa gente punta più sull'apparenza perché deve vendere quindi questa gente si chiamano marchettari amico marchettari li chiamano questi questa gente marchettaro marchettari fammi vedere se ci sta quell'altro quell'altro genio guarda la lampada ecco questo lo dice anche insomma che faceva il marchettaro prima prima di fare buttarsi qua nel nel mondo spirituale della gente buona così dintro e questo è peccoglioni torre un'altra cosa un altro indizio ma guardate il linguaggio che uso questa gente peccoglioni 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 insomma non c'è cultura in quello che dicono non vedi mai che parlano non vedi mai per esempio che fanno un video come ho fatto io l'ultimo che ho fatto e ho fatto un video musicale artistico questi non sanno cos'è l'arte perché uno che deve vendere non sa cos'è l'arte non sa cos'è l'arte non sa cos'è il bello loro pensano solo ai soldi e tu pensi che loro capito ti salveranno queste gente queste marchettaro che hanno visto che vendere gli oggetti ormai non funziona più hanno visto che c'è tutto un mercato online di gente che creda le peggio cazzate e vanno online a vendere i loro libri oppure nel caso di quest'altro qua ti dice di fare le donazioni quindi tu utente comodamente da casa tua dona a salvo e salvo ti salverà il mondo tu però stai comodamente a casa tranquillo non devi fare niente stai comodamente a casa dona qualcosa a salvo e salvo girerà con il suo pecoglionitore andrà in giro così in bici in piazze così deserte a parlare con gente che è proprio un ciancazzo da fare che lì guarda questa questo questo tizio così simpatico molto simpatico vicino e lui l'intervista parlano un po' di di qualche cazzata così e hanno cambiato il mondo abbiamo cambiato il mondo il giorno dopo che hai finito di vedere salvo ritorni a fare lo stesso lavoro di prima perfetto perfettissimo abbiamo cambiato il mondo abbiamo cambiato il mondo perfetto e poi questa gente ovviamente io l'ho fatto vedere nel video blob amico carichiamo il video ah no senza che carichi poi si rallenta vai a vedere sul mio canale sul mio canale vai sul mio canale fai metti la lentina là e scrivi blob 2.0 e vedi nella sezione nella sezione dove c'è scritto c'è un indice sotto al video insomma vai alla sezione dove c'è scritto così non ti non ti te lo guardi tutto vai nella sezione cioè tu clicchi proprio ecco te lo faccio vedere se no se no è troppo complicato la gente insomma andiamo ai video ai miei video c'è un video che si chiama blob eccolo qua clicchiamoci fermiamo se no e qui ci sono i nostri geni eccoli qua qua sotto nel video c'è tipo un indice no una leggenda ecco tu vai a questo punto clicca qua dove c'è scritto promozione privata clicchi qua e parte subito in questo minuto qua il video e vedrai come questa gente si fa pubblicità l'una con l'altra perché salvo fa pubblicità a mario 40 mario 40 deve vendere il libro quindi ringrazia salvo perché l'ha invitato nella sua trasmissione però tu tu che sei un pesce che ha bocca ti vedi questi come salvatori della patria e quindi tu siccome non hai le palle per uscire in piazza e protestare e non vuoi sforzare il tuo cervello tu ecco metti il like la storia del like non l'hai capita amico Gabriele quando ho parlato del like significa stavo dicendo che la gente invece di alzare il culo gli basta mettere un like così sulla pagina del loro guru preferito oppure compro nel libro del loro guru preferito e hanno salvato il mondo quanto è facile no? senza fare niente e tutto continua come prima tutto continua come prima si sono sfogati un po' per un po' guardando i loro eroi che fanno una bella vita grazie ai coglioni che comprano oppure che fanno donazioni cioè questo ha lasciato il lavoro gira così in bici fa pure vacanze così per l'Italia perché tanto c'è la gente che gli dà i soldi questo altro genio che fa i seminari li prende anche per culo nei seminari e intanto la gente gli dà i soldi lo stesso quest'altro genio qua igienista mentale ha fatto tutto un video lungo dove parla della terra piatta porca troia annaccio la troia che spettacolo e poi stavo vedendo stavo vedendo porca troia che molta gente se tu vedi i voti in basso al video molta gente se qualcuno fa un video che che debanca che prende per culo questi che parlano della terra piatta tutti i voti sono negativi e quindi lì ho realizzato porca troia stiamo nella merda stiamo nella merda la maggior parte della gente vuole questo qua perché siccome studiare la scienza è molto più complesso fare un esperimento da solo è molto più complesso ecco meglio ecco capito questa visione qua loro credono che la terra è tipo così cioè capito così proprio è piatta così in realtà le cose cioè questi continenti sono fatti così ma andiamo avanti non andiamo avanti che abbiamo vomitato abbastanza e quindi vediamo un po' così a volo questi commenti che mi ha fatto capito questo non è un cazzone è uno che sa a fare discorsi seri sì sì molto seri e pensi che uno che va in giro per tutta l'Italia a fare conferenze senza chiedere un soldo ma lo fa per noi lui lui fa questa cosa perché è buono ma lo fa questa cosa che buono aspetta un attimo allora vediamo qua pensi che lui lo fa per gli altri per me per te per Tom spero sarà fino l'ho fatto per noi mi ricorda quello là di Zelig che prendeva per culo Berlusconi quello con i capelli così come cazzo che è ma non mi ricordo come si chiama lui diceva e lui l'ha fatto per noi è sceso in campo per noi aspetta un cazzo si chiama quello perché era troppo forte ecco uguale lì ci starebbe proprio lui perfetto e l'ho fatto per noi lui è sceso in campo lui fa il povero Salvo Salvo va in giro per noi per tutta l'Italia l'ho fatto per noi non lo fa per la donazione no lo fa per noi aspetta mamma mia lo fa andare a farlo da solo ma che solo da solo un piancazzo etichetti tu gli altri come ti pare e come più ti piace a te e come ti pare e come più ti piace perché vuoi dare forza alle tue teorie ma quale forza amico ma quale forza ma quale forza come ti ho detto io non vendo un cazzo amico se a te non ti piace il mio tono è un problema tuo amico è un problema tuo tu devi guardare quello che dico non il tono amico il tono l'apparenza lo guardano i bambini per questo siamo nella merda oggi perché la gente non guarda quello che fa il politico quello che sta dicendo ma guarda come lo sta dicendo ecco che stiamo nella merda amico perché la gente guarda l'apparenza e non il contenuto capito riesci sforzi lo so che è difficile cerca di andare oltre cerca di andare oltre al mio tono di voce alla mia bruttezza al fatto che io non sono in giacca e cravatta come i tuoi eroi e quindi per quello io ti sto sul cazzo ti sto sul cazzo perché tu dici ma guarda questo un pezzo un pezzo di coglione questo è un coglione come me guarda come fa il professore questo capito ma io posso essere così amico perché non mi allora fammi mettere la telecamera qua dove stai amico capito io posso parlare così liberamente caro caro Gabriele perché io non vendo niente questo tipo di tono non lo vedrai da nessuna parte non c'è nessuno che parla così Gabriele nessuno perché ti devono vendere qualcosa io siccome non devo vendere niente io posso prendere per culo posso posso parlare con questo linguaggio così che è il linguaggio naturale non vedrai senti molto raramente questo tipo di linguaggio uno così schiettamente che dice le cose questa qua l'ho presa proprio è di mia madre ecco attaccatemi anche su questo guarda è un gay guarda che cazzo ho messo in testo piuttosto di guardare quello che sto dicendo ecco questo apparenza perdete tempo con le cazzate perdete tempo che non mi sono fatto la barba perdete tempo che sono sono brutto non c'ho già che cavate guarda sono tutto peloso guarda guarda sono tutto peloso ecco perdete tempo con l'apparenza non con il contenuto no mai con il contenuto non perdete tempo con il contenuto anche perché non lo sapresti fare quindi capito Gabriele perché io ti sto sul cazzo perché nella tua mente che si basa solo sull'apparenza io sono guarda che cazzo guarda tutto peloso tutto brutto guarda ma come fa questo ad essere professore a fare il genio lui è un semplice coglione lui deve stare zitto di solito chissà chi ha qualcosa da dire ha anche una bella apparenza invece lui non rientra su questa cadoria lui mi sembra una persona che così dice le cose perché vuole vantarsi perché è arrogante lui è un arrogante tu sei arrogante tu sei anche un coglione arrogante ma continuiamo a vomitare continuiamo a vomitare con la nostra ricerca perché insomma c'è da non ridire ancora per un po' ancora per un po' allora fammi vedere perché mi sono segnato un po' di cose qua si questo l'ho detto speriamo potrei anche andare avanti qua però aspetta che mi sono scritto quelle cose qua si questo l'ho detto ok andiamo avanti c'è questo punto qua da fare allora quello che dico io nei miei video e quindi per cercare così inutilmente di ritornare così a usare la logica il fatto che io perdo tempo con questi soggetti qua nei miei video è perché basta te lo sto dimostrando perché te lo sto dimostrando perché sono dei marchettari non si arriva da nessuna parte se sei con questa agenda proprio ti devi sforzare un po' di più da solo secondo me noi abbiamo un unico modo ora se salvo fa il suo partito l'altro genio là fa il suo senza che faccio nomi dai ognuno ha il suo capito la sua chiave per la salvezza la chiave per la salvezza tutti hanno una chiave diversa tutti nono devi seguire me nono è questa la chiave giusta nono è quest'altra la chiave giusta devi seguire me nono invece è quest'altra questa la chiave giusta ma che cazzo capito è questa la chiave giusta che succede questo è perfetto per questa gente perché loro prendono i polli che gli danno i soldi a loro perfetto le cose non cambiano quindi loro a loro piace che ci siano dei deficienti così e lui che gli milk come si dice proprio gli come si fa con la mucca noi gli prendi il latte come si dice to milk cioè quando fai la mucca gli munge gli munge facciamo le tette della mucca ecco gli munge gli munge lui gli munge gli munge e lui gli munge e quindi per lui lui non vuole che cambia questi geni qua questi marchettari loro non vogliono il cambio di sistema perché per loro così sta funzionando benissimo il sistema perfetto loro stanno a posto e quindi quindi qual è il problema il problema è di questi polli qua che ci cascano perché l'alternativa sarebbe quella di unirci tutti quanti di fare ricerca per capire come come funziona veramente il mondo che ci circonda in tutti i suoi aspetti e la cosa la conclusione poi che si arriva a fare è quella che sto cercando io nei miei video che tu metti da parte poi una volta che capisci come funziona il tutto metti da parte differenze fra uomo e uomo e cerchi di fare una specie di fronte comune unito tu guardi l'uomo come l'essere umano non più con l'ego di ecco la mia teoria è più giusta di questi qua il mio guru è meglio del tuo io c'ho il mio guru il mio guru è meglio quando arrivi a capire bene le cose capisci come funziona il tutto ti sei sforzato hai fatto lo sforzo capisci che la lotta è unica e ti unisce a questa gente l'unico modo che abbiamo per fare una cosa del genere è politicamente amico non ci sono cazzi non ci sono cazzi però siccome noi andiamo a sforzarci così guardando il nostro guru preferito piuttosto che capire come funziona il mondo che ci circonda cioè capire come funziona la politica tutta questa roba qua cioè quello che ti governa che ti fa lavorare otto ore al giorno tutto quello sfruttamento che ti guarda da vicino no quello non lo vuoi studiare però tu vuoi studiare la terra piatta perché è molto più semplice no guardi due video di igienista mentale là di altri geni e là è finita invece capire come funziona politicamente in comune i problemi che hai la tua città come funziona proprio internamente tutta l'amministrazione tutta questa roba quella roba è molto più pallosa ci vuole tempo e quindi che fai ti butti nei cazzoni qua ma facci caso porca troia chi è che guarda questi cazzoni qua guarda la sta gente che li segue sono bambini sono dei celebrolesi altro che terra piatta encefalogramma però piatto porca troia encefalogramma piatto infatti così mi sa che lo chiamo il video encefalogramma piatta capito? quando tu realizzaci insomma quello che dicono anche gli altri seguiamo la gente non gli vado a sforzarsi si buttano i cazzoni qua capito? e vuole cambiare il mondo così guardando 5 minuti e mettendo il like al cazzone preferito al guru preferito è capito amico è capito è capito è capito è capito a Gabriele a Gabriele ma che pensi che sto cercando di mannaggia la troia oh mio dio mamma mia ma non vedi chi cazzo ma l'hai visto il mio canale porca ma l'hai visto che ti sto dicendo unisciti al mio partito nei miei video sto dicendo il contrario porca sto dicendo che dobbiamo sforzare il cervello dobbiamo usarlo altrimenti non usciamo da questa mezza sto dicendo di condividere non dico di mettere il like al mio video non dico di iscriverti ogni secondo quando parlo nel video cerco di condividere le mie foto come ho scritto sono dominio pubblico i miei video sono dominio pubblici tutti ti sto dicendo puoi prendere il mio video lo puoi mettere come tu lo puoi vendere puoi fare quello che cazzo ti pare le mie foto che sono foto fatte con macchine professionali reflex perché ho la passione della fotografia li metto non come i coglioni che mettono il nome se tu vai sui siti questi qua che hanno le foto mettono le foto scrivono subito copyright il nome loro oppure ci sono dei geni che mettono il nome coprono tutta la foto col nome lo coprono così tu non la rubi non rubi la loro foto non la prendi perché è loro l'hanno fatto loro la foto ecco io tutta la mia roba tutta la mia produzione la metto gratis chi te lo fa questo caro Gabriele chi te lo fa capito e loro fanno per te hai scritto e lui lo fa per te lui gira l'Italia e lo fa per noi per te per me per Tomix invece tu sei arrogante capito lui vende lui chiede donazioni e tutto invece io io che ti do la roba gratis la metto lì gratis io sono l'arrogante e poi un'altra cosa che ho notato questo è un classico di solito una persona quando non vuole mai darti ragione che succede? io avevo un amico uguale a te caro Gabriele e che era? l'amico Luis no? che ti ho parlato l'amico Luis che faceva? siccome era un tipo proprio facciamo perdere un vuoto proprio non era un tipo insomma era un po' abbastanza simile a te sto notando e ogni tanto quando ci incontravamo allora questo sono io questo è l'amico mio Luis quando gli dicevo qualcosa di nuovo facevo la stessa cosa che mi fai tu mi dicevi ma tu ti fidi di quello che dicono nei libri delle cazzate che leggi di quello che ti dicono ma usa la tua testa guarda guarda tu non hai esperienza guarda i libri leggi quello che ti dicono gli altri ma non hai esperienza non guardi capito? lui dice di usare i sensi capito? è ovvio la cosa no? guarda devi avere esperienza ti devi fidare della dei sensi capito? non della logica del cervello come ho detto nell'altro video se noi ci fidassimo solo dei sensi non esisterebbe la scienza porca droga la scienza perché esiste? perché gli sensi falliscono porca droga il cucchiaino nel bicchiere è storto i tuoi sensi ti dicono che è dritto il senso ha sbagliato devi usare la testa quindi fare ricerca e capire che in fisica c'è la rifrazione e tutta questa roba qua e poi lo capisci capito? perché non puoi fidarti così solo della tua testa senza averla mai sforzata per capire come funzionano le cose capito? lui aveva l'esperienza lui aveva i sensi ma a lui non gli sfugge niente e quindi mi prendeva per culo sempre e poi che faceva però? dopo quando ci rivedevamo dopo un po' cominciavo a notare che prendeva le cose che gli dicevo io le modificava leggermente e quindi mi ritrovavo che dopo una settimana che l'ho incontrata una settimana dopo che gli avevo detto ecco questa è la prima settimana gli dico un'idea mi attacca subito la settimana dopo che fa? mentre parla ha macinato un po' l'idea quella roba là che io ho detto io la modifica solo leggermente e quando mi parla mi diceva la stessa cosa che io ho detto io ma non si rendeva conto il coglione mi diceva la stessa cosa che io ho detto io modificata proprio leggermente e poi però me lo diceva come se mi sta dando tipo un consiglio ma li portasci ma te l'ho detto io orca dove una settimana ecco tu hai questa tendenza caro Gabriele fai la stessa cosa fai la stessa cosa oh mio dio che brividi che brividi che altro che altro che altro che altro che altro sì sì questo l'ho detto quindi che c'è scritto qua? vediamo un po' altre altre perle di Gabriele lui lo fa perché ci crede, ripeto tu lo faresti al suo posto? lo sto facendo, lo sto facendo, infatti ho capito di essere un coglione ho capito di essere un coglione, sto facendo, sto perdendo tempo come un coglione io perdevo tempo, cercavo di fare le cose semplici disegnando la logica e tutto, no, ovviamente nessuno guarda il contenuto mi sono reso conto solo adesso, ci ho messo un po' per arrivarci meglio tardi che mai quindi ovviamente i video adesso o li farò così, con questo tono così per prenderli per culo, perché non c'è altro modo io prima ero serio, perché pensavo che usando la logica posso essere utile magari a qualcuno che sia cerca per la prima volta di usare il cervello invece no il like, questa l'ho spiegato, la storia dei like se tu etichetti la gente senza nemmeno ascoltarla come puoi pretendere di capire qualcosa di nuovo ma che cazzo devo ascoltare io di questa gente qua te l'ho detto, a me basta andare lì nella sezione informazioni, caro amico piccoli dettagli amico, ecco ecco i piccoli dettagli non c'è bisogno di stare lì a vedermi tutti i video di sto genio qua a me già il fatto che lui sta lì a fare seminari ad altri coglioni già mi dice che è un poveraccio quando una persona non mi parla mai di cultura nei suoi video non c'è cultura con la C maiuscola amico non mi parla di storia faccio un esempio tipo Serafino Massoni è un'altra cosa questa cosa di Serafino Massoni io non sono d'accordo con Serafino Massoni così per esempio io per quanto gli do ragione io non penso perché il messaggio di Serafino Massoni è quello che lui dice che purtroppo noi siamo in capitalismo e non c'è niente da fare quindi dobbiamo tenercelo così com'è una parte di me una parte di me gli dà molto ragione soprattutto ultimamente mi sto rendendo conto che purtroppo è tutto vero la gente non usa la logica quindi siamo nella merda però un'altra parte di me non ci vuole credere a quella cosa e quindi su quella cosa non sono d'accordo con lui perché così inutilmente spero come un coglione che sono è che l'uomo può fare qualcosa per uscire da questa merda però guardando la situazione qua la gente che crede nella terra piatta cazzo stiamo nella merda porca troia stiamo nella merda totale quindi alla fine ha ragione capito Gabriel già il fatto che questa persona non mi parla mai di cultura non mi parla mai di arte lo capisco che è un marchettaro questa roba lo capisci con il tempo e tu siccome vedi me come un coglione questa roba e questo senso di capire con che gente aveva che fare è un senso che io ho maturato perché io ho vissuto ho avuto esperienza in due paesi diversi amico e so come ci si comportava in un paese dove non devi vendere niente come quello che stiamo vivendo oggi in capitalismo qua in Italia per esempio che era l'Albania degli anni prima degli anni 90 dai prendi per culo ecco io so come è fatta una persona genuina perché l'ho visto con i miei occhi capito? una persona che non mi deve vendere niente e quindi io ho un sesto senso per le minchiate prima e poi dopo basta col tempo cominci a vedere l'esperienza questa roba qua questa roba qua ti fa vedere che è uno che sta cercando la salvezza personale non di tutti noi amico la salvezza di tutti noi come si fa la salvezza di tutti noi? tu metti da parte il tuo ego del cazzo la metti da parte e ti unisci in un gruppo ti unisci in un gruppo tu dirai ma perché tu allora parli da solo in un senso in un gruppo? perché non c'è nessuno non c'è nessuno cazzo chi mi parla di anticapitalismo per esempio quando troverò qualcuno che mi parla di anticapitalismo io andrò a formare il loro il loro partito ma per il momento la gente capisce vedo solo monnezza cazzo solo monnezza guarda solo monnezza solo gente che cerca di vendere la sua idea per fare soldi solo gente che cerca di vendere il suo libro solo questa minchiata qua e quello è un sintomo non di una persona molto profonda e illuminata una persona profonda e illuminata è uno che si cancella nel gruppo che capisce che tu sei uno di tanti lo so che non è difficile da accettare questa cosa lo so che noi vogliamo sentirci speciali la world trap non è così finché ci sentiremo speciali staremo sempre nella merda sempre nella merda perché per esempio oggi sono usciti fuori due miliardi di partiti e per esempio la sinistra non si riesce si è disintegrata non ha più il potere che aveva prima perché ogni candidato ogni politico vuole avere il suo partito vuole avere la sua proprietà privata ma capito e quindi non vogliono avere una cosa comune no meglio avere i miei i miei polli o i miei i miei contributi che mi arrivano dallo stato per il mio partito e quei soldi mi metti tutto in tasca io invece se faccio una cosa unica un partito unico eh no quello non va bene perché non mi entra niente in tasca cosa ci guadagno dice dice il mostriciatro cosa ci guadagno cosa ci guadagno in un mondo dove non c'è più la violenza dove ognuno fa per cazzi sua cosa ci guadagno ci guadagno tutto ci guadagno ma non ci arrivano porca proie vabbè capito amico come li riconosci questa gente ecco come li riconosci come li riconosci gente che mi riconosci quando vedo qualcuno che mi sta lì a parlare da roba spirituale ogni più di dieci volte al secondo mi insorge il dubbio amico insorge il dubbio il modo di parlare come parlano se non usano mai un linguaggio non buttano mai niente di storico di scientifico di artistico di musica tutta questa roba qua gente che non ha non mette niente di bello il bello perché non mettono il bello non parlano del bello non ci parlano loro parlano di come sono buoni e questo è un classico quando qualcuno ti fa vedere quanto è buono stai attento quando uno non parla con il man stai attento stai attento un altro indizio quello capito amico Gabriele e poi un'altra cosa voglio spiegarti questa cosa qua amico io non per esempio ti sto dicendo queste cose qua tu sicuramente lo prenderai come un attacco ma io ti ripeto che io non provo mai odio per nessuno per nessuno amico non provo odio io provo al massimo compassione perché io ti dico nei miei video che mi rendevo se io avessi davanti il coglione che ero io otto anni fa proverei compassione compassione per quanto ero coglione solo compassione ma non odio cioè è come se capito tu ti incazzi con un computer degli anni 95 perché non puoi vedere i video in flash tu non puoi prendertela col computer porca te però devi cioè devi aggiornarlo questo computer non è che te la puoi prendere cioè questo computer è in questo in questo stato quindi io non me lo posso prendere con me di otto anni fa o con chi mi critica oggi perché so benissimo per esempio che tu non potrai mai ma mai ammettere di avere torto perché questo è un difetto che avevo anch'io nessuno vuole far vedere che ha sbagliato mai nessuno mai nessuno vuole far vedere che sbaglia e quindi che fanno fanno come lui che fanno prendono le tue cose che gli dici le masticano come stai facendo anche tu e poi piano piano non ti danno ragione subito però piano piano te le ridicono nei commenti però attaccando di sempre attaccando di sempre capito quindi che succede tu gli dici una cosa loro la accettano però intanto ti attaccano su questa nuova cosa accettano quest'altra però mentre accettano questa ti attaccano su quest'altra cosa per farti vedere insomma che tu non hai capito un cazzo ma che dici che dici però poi tu gli fai vedere gli dici un altro ragionamento loro accettano questo loro accettano quest'altro ma comunque per non farti vedere che lo mascherano loro mascherano questa questa cosa che ti dicono per non far vedere che l'hanno copiata da te la mascherano leggermente però subito ti attaccano sulla cosa che stai dicendo ma che cazzo dici ma che cazzo hai capito sempre sotto attacco loro non devono mai farti vedere alla fine mi farebbe pure schifo avere gente così che mi si appiccino così e fanno tipo non voglio avere discepoli alla fine quindi alla fine forse dai alla fine accetto anche questo tuo modo di fare piuttosto che avere proprio dei guru come i guru questi qua questi geni qua che hanno gente che proprio li sente proprio parlare proprio pende dalle loro labbra proprio così come se stanno vedendo proprio la rivelazione proprio quindi anche così mi farebbe schifo che carità usate la testa cazzo contraddicetemi contradditemi come cazzo si dice capito amico Gabriele io non provo mai odio capito non provo odio non scrivono le parole d'odio amico perché chi chi odia una persona chi odia una persona c'ha qualcosa che non va dentro amico tu odi tu odi porca troia perché si vede che non te la prendi mai con quello che dico col messaggio ma perdi tempo con me perché ti sto sul cazzo ti sto sul cazzo che ho questo tono proprio così da professore che cazzo ti devo fare amico questo è il mio canale io sto spiegando questa roba sto spiegando e siccome non c'è niente di male nel spiegare non c'è niente di male noi però non vogliamo solo gli esperti possono spiegare che un cazzone così lui non può dire niente non può dire la sua esperienza io ho avuto un'esperienza la sto presentando nel mio canale è ovvio che la sto spiegando che cazzo devo fare come cazzo vuoi che parli come cazzo devo fare quindi quando qualcuno odia un'altra persona lo prende come una cosa personale e lì c'è qualcosa che non va con te amico te l'ho spiegato già nell'altro video tu non puoi prendertela come una persona perché è fatto nel modo come è fatto io per esempio di questa gente qua di questa gente qua che mi parla di che mi attacca su invece di guardare con gli occhi di loro io provo solo compassione tristezza proprio pietà proprio questa gente mi fanno pena da notare tra l'altro guarda un po' stavo vedendo guarda c'è Emanuele Nusca che è uno di quelli geni che ho messo nel video blog guarda ha messo l'ok solo a lei che mi attacca a me no per esempio io di questa gente qua per esempio provo solo compassione ma non odio cioè posso provare odio di questa gente qua cioè come cazzo fai è come provare odio per un bambino che non capisce quello che gli sta spiegando non lo puoi provare porca stato oggi quindi che come cazzo fai a odiarli come cazzo fai a non usare un tono sarcastico come cazzo fai porca come fai mamma mia che roba incredibile capito io penso che molto probabilmente a questo punto comincio ad avere veramente dubbi veramente dubbi che questa gente qua sia pagata veramente mi viene il dubbio non non penso che sia quello il caso non penso perché questa gente qua guarda solo gli interessi loro deve vendere il libro se non vendono il libro un'altra cosa che ti dico loro hanno ecco loro hanno siti internet amico lì nel sito ogni volta che c'è traffico ogni volta che uno clicca entra nel sito il traffico che succede ti dà soldi semplicemente per uno visita il suo sito entrano soldi quindi ecco perché loro si fanno pubblicità nelle loro trasmissione l'uno con l'altro perché tu fai venire i tuoi polli da me io faccio venire i tuoi polli da te e così abbiamo tutti questi polli che ci guardano capito? a loro interessa solo che tu apri il suo video lo apri hai le visualizzazioni nel canale tuo dimostri che hai visto il suo video ti è piaciuto e quindi si apre si apre la parola altri polli vengono capito? capito? chi cazzo abbiamo che fare qua? e quindi qui neanche stavo dicendo questa roba qua e ti viene a sto punto viene il dubbio che questa gente qualcuno mette questa roba proprio per farci tornare indietro proprio per tenerci proprio nel medioevo porca troia tenerci proprio nel medioevo così ci fanno perdere tempo con le minchiate invece di di attaccare chi di dovere cioè chi porca troia al potere di comandarti il giorno quando vai al lavoro dal più piccolo imprenditore al politico che odi capito? non c'è solo in alto in tutta la società è strutturata in questo modo qua noi invece di cambiare questo tipo di struttura fatta a piramidi in ogni ambiente c'è sempre una persona che domina le altre sia in famiglia sia nel qualsiasi lavoro sia invece di cambiare quel tipo di sistema qualcuno secondo me lascia oppure paga questa gente per distrarci e quindi una marea di giovani e di gente che potrebbero unire i loro sforzi per prendersela con il sistema che è ingiusto che non è uguale tra individuo e individuo e quindi cercare di mettere in dubbio questa struttura a piramide che abbiamo oggi cioè che poche persone comandano tante ecco noi invece di toccare questa struttura qua noi perdiamo tempo con la terra piatta capito? come è la situazione qua? quindi Gabriele se riesci ad essere una persona spiritualmente evoluta me lo dimostrerai questo solo se dopo aver visto questo video a parte che sono sicuro che tu non ci sarai mai arrivato a questo punto qua perché tu mentre hai guardato il video hai già cominciato a commentare a sputare veleno già lo so però se tante volte insomma sei arrivato così fino alla fine ecco mi dimostrerai che sarai una persona evoluta spiritualmente buona tutto intelligente se non ti incazzi con quello che sto dicendo qua perché io non mi sto incazzando con te io mi sto incazzando con quello che dici quindi allo stesso modo tu d'ora in poi attacca le mie idee attacca le mie idee dai dimmi che sono comunista parliamo di cose serie così ti spiego le tue i tuoi dubbi dai dimmi così ho modo di spiegarti quelle cose là perché tu credi che io mi hai detto e tu stai portando il comunismo qua in Italia vuoi convertirci sei arrivato qui a casa mia e vuoi vuoi dirmi come vivere ecco in questa frase io noto molta ignoranza ma troppa e che vorrei tanto spiegare però quando vedo che dall'altra parte non c'è nessuno che vuole apprendere posso così amico non ti meravigliare se il tono poi dei miei video è questo perché sto vedendo che tu vieni a vedere la mia roba semplicemente per dimostrare quanto ce l'hai più lungo del mio ma io non voglio fare questo cioè poi mi dici tu non prendi niente dagli altri che devo prendere pure da te brain dead con tutta la buona volontà c'è poco da prendere amico che ti devo prendere che devo prendere dai tuoi video che hai parlato nel video là di emancipazione femminile che parlavi della donna come un oggetto porca troia ma vattene a vedere il video che hai messo porca troia la donna è una troia si chi sta rovinando questa società perché chiede sta proprio chiede di tutto all'uomo ma porca troia ma mamma mia fa me sta zitta porca cioè questa è questa è una società questo lo spiega Serafino Massone guardalo guardalo Serafino Massone guarda l'orrore che fa l'uomo con la donna lo spiega Serafino Massone questa è una società patriarcale che stiamo vivendo adesso capitalista e patriarcale patriarcale nel senso te lo spiego perché tanto lo so che non hai tempo per vedere i video di Serafino Massone l'ho spiegato anche in un altro video starato con una raffa quindi amico se vuoi dimostrare quindi di essere una persona saggia e illuminata spiritualmente dimostrami insomma quanto sono nell'errore no? vai parlami di quello che ho detto qui adesso non di come l'ho detto non concentrare l'attenzione su io su te non concentrare la cosa su te lascia stare la persona guarda l'idea il contenuto non l'apparenza capito? quindi parla del contenuto di quello che sto dicendo non di me non attaccare attacca le idee ok? grazie ciao bubba 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 bubba